Musica Tutti d'accordo sulle ollie offshore ma c'è l'emergenza phase out di Tore Valdaliga Nord quanto è emerso dal lungo consiglio comunale aperto di ieri pomeriggio all'Aula Pucci Si terrà lunedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy un importante incontro nello specifico si parlerà della riconversione delle aree industriali della centrale a carbone di TVN Domani è il giorno della protesta generale dei lavoratori Enel di tutta Italia che si asterranno dal lavoro per l'intera giornata non sciopererà il personale impegnato nella produzione Doppia iniziativa per l'OMC in occasione dell'8 marzo domani verrà inaugurata una nuova sala insonorizzata e ci sarà anche nota in armonia con delle esibizioni canore Siamo pronti ad incatenarci il grido d'allarme della Flavioni dopo lo slittamento dell'inizio dei lavori del palagrammatico da noi ribattezzato paladrammatico Buonasera dal nostro telegiornale tutti d'accordo con il progetto dell'eolico offshore fuori dalle coste di Civitavecchia ma prima c'è da gestire l'emergenza legata al phase out di Tore Valdaliga Nord è questo in estrema sintesi quello che è emerso dal Consiglio Comunale Aperto che si è svolto ieri pomeriggio all'Aula Pucci su richiesta del consigliere della lista tedesco Alessandro D'Amico tantissimi gli interventi da esponenti di Eni Plenitu dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino passando per le organizzazioni sindacali e i consiglieri comunali Lungo ma poco partecipato il Consiglio Comunale Aperto sull'eolico offshore che si è svolto ieri pomeriggio all'Aula Pucci Dopo gli interventi iniziali del consigliere della lista tedesco Alessandro D'Amico primo firmatario della richiesta e del sindaco Ernesto Tedesco si è entrati nel vivo della discussione A presentare l'iniziativa è stato Giorgio Di Liddo Development Director di Eni Plenitude parte della joint venture composta anche da Cassa Depositi e Prestiti che insieme alla Copenhagen Infrastructure Partners sostiene l'iniziativa del Tirrenian Wind Energy il parco eolico da 540 MW che dovrebbe sorgere a 30 km dalle coste di Civitavecchia e altri 4 progetti tra Sicilia e Sardegna Attraverso alcune slide Di Liddo ha spiegato cosa prevede il progetto dal punto di vista tecnico a che punto è l'iter autorizzativo che dovrebbe avere in autunno il provvedimento positivo relativo all'istanza via presentata ad agosto e le tipologie di attività che si possono sviluppare in porto come quella di assemblaggio delle fondazioni e quella di integrazione delle turbine In attesa del decreto d'energia ha spiegato Di Liddo lo scalo di Civitavecchia è tra i candidati all'ospitale Lab per il quale sono necessari interventi infrastrutturali proprio come quelli in corso in Francia Ci sono quindi due ipotesi quella povera che prevede lo sviluppo del singolo progetto di Civitavecchia che avrà durata un anno e mezzo e quella ricca che è quella che vede Civitavecchia come distretto per i parchi eolici che saranno allestiti in un raggio di 400 km e che avrà durata almeno ventennale In tutto il personale impiegato sarà di circa 1000-1500 persone Di Liddo ha risposto alle domande dei consiglieri comunali come quella sui tempi di realizzazione stimati in circa 5 anni o sul costo del progetto che dovrebbe costare 2 miliardi di euro La parola è poi passata al presidente dell'autorità portuale Pino Musolino che si è detto d'accordo in linea teorica sul progetto ma ha portato all'attenzione dell'Aula Pucci alcune questioni pratiche che ne ostacolano la realizzazione In primis l'assenza attuale di banchine disponibili da dedicare all'eolico che se dovessero essere costruite ex novo per esempio la Darsena Mare Nostrum avrebbero un costo di 400 milioni di euro e poi l'assenza di richieste di aree a terra finora pervenuto ufficialmente Nel frattempo, ha spiegato Musolino l'autority ha fatto degli studi preventivi un lavoro proattivo per prevedere eventuali spazi da dedicare a queste attività Per l'investimento di 400 milioni ha spiegato Musolino è necessario l'intervento del governo nazionale ma poi ci sarà anche da capire la sostenibilità finanziaria dell'investimento Il numero uno di Molo Vespucci ha anche anticipato che l'autorità portuale parteciperà al bando del Mase per individuare aree da destinare alla realizzazione di un hub per l'eolico Altro concetto espresso da Musolino il fatto che il progetto del parco eolico offshore al quale ha affermato di aderire non è la soluzione per il problema del phase out del carbone a TVM che avverrà nel 2025 Nello stesso avviso gli esponenti delle sigle sindacali presenti e di diversi consiglieri comunali intervenuti secondo i quali l'emergenza legata a Torre Valdalica Nord non permette di concentrarsi con la massima attenzione su un progetto importante come quello dell'eolico sul quale sono tutti d'accordo e che va comunque portato avanti A tal proposito la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Emanuella Mari ha proposto di convocare Enel in consiglio comunale per parlare di quello che è previsto a Civitavecchia dopo il 2025 È stata una mattinata di paura e preoccupazione a Civitavecchia attorno alle 8 alla rotonda tra viale Berlinguer via Terme di Traiano si è verificato un incidente tra uno scooter e un furgone bianco A farne le spese è stato soprattutto il ragazzo alla guida della mezzo a due ruote che è finito sull'asfalto mentre il mezzo pesante sarebbe andato via senza prestare soccorso Il giovane che per fortuna ha rimediato solo qualche scoriazione è stato immediatamente soccorso e aiutato da alcuni passanti e si trova in buone condizioni tanto da essere andato successivamente a scuola in quanto si tratta di uno studente Speranza mista delusione è questo il sentimento prevalente dopo il consiglio comunale di ieri interamente dedicato all'eolico offshore nel quale è stata confermata la validità del progetto ma sono emersi anche tempi lunghi e problemi di finanziamento per la realizzazione di una banchina dedicata Adesso l'attenzione sul post carbone si sposta tutta a lunedì prossimo all'incontro in programma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Adesso l'attenzione è tutta spostata a lunedì prossimo all'incontro in programma al MIMIT il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso del quale si tratterà nello specifico della riconversione delle aree industriali della centrale a carbone di Tore Vardaliga Nord e al quale sono stati invitati regione, città metropolitana comune, enel, autorità portuale e le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali il consiglio comunale aperto di ieri sull'eolico offshore confermando la bontà del progetto ma i lunghi tempi di realizzazione ha fatto emergere ciò che nel suo piccolo TRC Giornale sta dicendo da mesi ovvero che a Civitavecchia è scattato il meccanismo a orologeria per l'imminente esplosione di una deflagrante bomba sociale conseguente alla chiusura della centrale a carbone Adesso si spera che dall'incontro di lunedì prossimo arrivino iniziative e atti concreti almeno a livello di governo finora infatti territorialmente si sono prodotte solo chiacchiere un primo importante segnale potrebbe essere rappresentato dal definire da subito il futuro reale dell'enorme area dove insiste Torre Valdalica Nord e quali iniziative importanti di carattere produttivo e occupazionale da finanziare immediatamente è in grado di ospitare sarebbe il minimo riconoscimento per una realtà che tanto ha dato al paese sia in termini di territorio che di salute in oltre 70 anni di produzione elettrica poi andrebbe individuato un percorso guidato economicamente e temporalmente per favorire la creazione del famoso hub per l'eolico offshore poi andrebbe individuato un percorso guidato economicamente e temporalmente per favorire la creazione del famoso hub per l'eolico offshore ma la domanda è riusciranno i rostri eroi nell'intento? chissà che l'imminente appuntamento elettorale non rappresenta uno stimolo a fare in modo che oltre alle solite vuote chiacchiere arrivino anche impegni concreti rispetto all'articolo sul maxiprogetto presentato a più riprese da Stazione Musica l'amministrazione comunale arriva alla risposta della vicepresidente del consiglio comunale Fabiana Attig che arriva a mettere in dubbio il fatto che questo progetto esista davvero ammesso che questo maxiprogetto esista scrive Attig ammesso che questo maxiprogetto sia così stupefacente come si scrive pare assolutamente fuori da ogni logica oltre che da ogni norma che si possa accusare l'amministrazione in carica di aver snobbato e fatto cadere nel vuoto un progetto tanto ambizioso evitando di evidenziare che l'affidamento in gestione dei beni pubblici non può avvenire in forma diretta ne può avvenire senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica con tanto di gara che assicuri i principi di trasparenza massima concorrenza e imparzialità della pubblica amministrazione Attig invita Stazione Musica a ritrattare quanto da loro affermato nei confronti della pubblica amministrazione e nel caso indicare chi o coloro i quali hanno fatto intendere che beni pubblici di notevole pregio possano essere affidati direttamente a chi che sia in barba alle normative di certo conclude non sotto l'indirizzo e il controllo della sottoscritta o dell'attuale direzione dell'ufficio del patrimonio e demanio ma ad essere preoccupati non sono soltanto i lavoratori del cosiddetto indotto domani infatti incrociano le braccia i dipendenti Enel di tutta Italia che contestano la politica aziendale che mette a rischio posti di lavoro e lo stesso futuro dell'azienda nel settore energetico in particolare quello delle rinnovabili non sciopererà il personale impegnato nella produzione per il quale gli scioperi saranno suddivisi in diverse giornate a Civitavecchia il fermo totale della centrale di Torre Nord è previsto per il prossimo 21 marzo dalle parole ai fatti domani è il giorno della protesta generale dei lavoratori Enel una situazione che non si verificava da anni e che fa comprendere come ci si trovi di fronte a un momento particolarmente delicato non solo della S.P.A. energetica ma dell'intera produzione di energia in Italia i dipendenti di Enel aderenti a CGL CISL e UIL si asterranno dal lavoro per l'intera giornata tranne quegli operanti negli impianti termoelettrici che sciopereranno in giornate diverse e nel caso di Torre Nord e a Civitavecchia con blocco totale il prossimo 21 marzo spiegano in un lungo documento che la protesta arriva contro la decisione dell'azienda di appaltare la maggior parte delle attività elettriche con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori delle imprese del sistema elettrico italiano vicino al collasso e contro un'azienda sotto organico da anni che non è in grado di gestire l'attuale rete elettrica italiana con carichi di lavoro insostenibili e allungamento dei tempi di ripristino dei guasti per i sindacati inoltre il piano di assunzioni presentato da Enel non garantirebbe il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e sono gravi sia la decisione di ridurre gli investimenti sulle energie rinnovabili in controtendenza agli obiettivi green del 2023 sia la modifica unilaterale del regime degli orari di lavoro con i tagli indiscriminati al costo del personale e la revoca dello smart working tutto ciò secondo Filchtem CGL Fly e Wiltec Wil si tradurrà in un'importante diminuzione degli standard di qualità e sicurezza della rete elettrica con possibile incremento di infortuni sul lavoro e conseguente fortemente negative sulla qualità e continuità del servizio elettrico sempre più a rischio di blackout in un messaggio attraverso una massiccia campagna di informazione condotta soprattutto sui social i sindacati si rivolgono direttamente ai cittadini spiegando che forse non si accorgeranno dello sciopero perché non crea disagi e perché nessuno sarà lasciato al buio ciò aggiungono le organizzazioni sindacali perché i lavoratori Enel sono responsabili e rispettano la legge sappiate però che fra poco tutto questo potrebbe non esistere più perché Enel intende ridimensionare drasticamente gli organici dare in appalto sempre più attività e di sconnettersi dal servizio pubblico L'ASL Roma 4 vuole celebrare la giornata della donna con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione per l'occasione sono stati organizzati diversi appuntamenti che l'ASL ha voluto dedicare al ricordo dell'infermiera del servizio vaccinazione aziendale Georgia Caminiti prematuramente scomparsa proprio in questi giorni per tutta la giornata al centro vaccinale sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione di tutti i vaccini raccomandati per classe d'età patologia e fattori di rischio si sta svolgendo all'istituto Don Milani dedicato ad una classe quinta è una prima media il progetto E tu di che genere sei finalizzato secondo gli organizzatori alla decostruzione degli stereotipi di genere sulla costruzione dell'identità di genere sono parole del movimento per la vita che esprime in merito preoccupazione in quanto già dal titolo E tu di che genere sei secondo l'associazione si comprende che alla base del progetto viene posta la teoria del gender Ancora un'iniziativa della Proloco cittadina nell'ambito del progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali di Civitavecchia intrapreso per promuovere le specificità territoriali connessi al patrimonio agroalimentare della città Dopo gli eventi di settembre scorso che hanno visto protagonista la zuppa di pesce Civitavecchiese e le biscuttine di Natale è ora la volta della pizza di Pasqua a Civitavecchiese l'appuntamento è per domenica dalle ore 17 presso il ristorante Dolce e Salato in Piazza Fratti 8 dove si svolgerà la dimostrazione dal vivo della preparazione delle pizze con l'assaggio e valutazione finale da parte del pubblico oltre alla descrizione degli ingredienti si parlerà dell'origine storica di poesie e racconti popolari nonché del percorso promosso dalla condotta locale di Slow Food per l'inserimento nel paniere dell'Arca del Gusto il tutto sotto la supervisione della Lady Chef Patrizia Manunza verrà inaugurata domani la nuova sala insonorizzata dell'Unione Musicale Civitavecchiese realizzata grazie al contributo di Fondazione Carici Vemmolinari nell'occasione si terrà un'iniziativa che vedrà delle brevi esibizioni in programma proprio alla Scuola di Musica di Via Bramante dalle 18.45 denominata Note in Armonia sentiamo parliamo di questa nuova inaugurazione per quanto riguarda la vostra sede dell'Unione Musicale quanto è importante il contributo della Fondazione che cosa vuol dire anche per la città possiamo dire così certamente è un nuovo servizio che offriamo alla nostra città abbiamo già una sala insonorizzata la seconda che apriamo proprio venerdì pomeriggio grazie al contributo anche della Fondazione Carici che ci sostiene da tanti anni noi mandiamo avanti dei progetti che ci vengono approvati e quindi questo ci consente di utilizzare poi quei fondi per naturalmente ridefinirli attraverso delle attività musicali ecco quindi destinati alla città e ai ragazzi noi abbiamo circa 250 iscritti per le varie classi musicali strumentali e vocali e quindi questo è un nuovo servizio di cui potranno usufruire anche coloro che non necessariamente sono nostri utenti quindi è una cosa importante lo facciamo in concomitanza con l'8 marzo che riprendiamo a festeggiare la donna con un'iniziativa musicale cui prenderanno parte alcuni allievi ma anche alcuni docenti quindi ci saranno anche delle esibizioni possiamo dire a partire dalle 19 noi ringrazieremo quindi con una targa la fondazione nella persona della presidente Gabriella Sarracco ma anche naturalmente la Molinari perché nel passato e anche ieri c'è stata a sostegno delle nostre attività delle nostre iniziative insomma Gabriella Sarracco parlavamo di un'iniziativa importante per la città è un'iniziativa importantissima per la nostra città avere una scuola della musica di tutto rispetto come è la scuola della musica in via Bramante una scuola che abbiamo sentito ha già 250 iscritti ma una scuola che guida gli allievi dall'inizio dalla propedeutica fino al diploma non è una cosa da poco io non so se tutti sappiano che ci si può diplomare è una laurea che dà poi tutte le possibilità a chi l'ha frequentata di trovare anche un lavoro un lavoro nel campo della musica nel campo della scuola perché sempre più spesso anche nelle scuole viene richiesto il contributo di un laureato in musica per la fondazione quindi approvare i progetti che in questi anni sono stati sempre accolti non è stata una cosa difficile perché sono progetti che vanno a favore sì della scuola della musica ma soprattutto a favore della nostra città ultimo appuntamento per la terza edizione della rassegna a teatro in famiglia pensata per il giovane pubblico alla cittadella della musica sabato alle 17.30 in programma Papero Alfredo dell'associazione Teatro Giovani Teatro Pirata con Simone Guerra regia di Daria Paoletta e Burattini di Formicola e Montelli una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo tra babbi e figli generazioni destinate ad amarsi sfidarsi e rincorrersi per l'eternità Passiamo ora a una segnalazione che ci arriva da Largo Monifazio una nostra lettrice ci ha contattato per riferirci di una sgradita sorpresa che sarebbe arrivata dal comune in una zona dove non esistono parcheggi né garage né posti auto spiega la cittadina il comune ha pensato bene di posizionare dei cartelli di divieto di fermata invece di aggiustare la strada il marciapiede che essendo sprofondato fa allargare la strada non ci permette neanche di entrare nel portone vorremmo spiegazioni come di consueto noi giriamo la segnalazione agli organi di competenza passiamo ora a un'altra segnalazione che ci arriva stavolta da via Apollodoro i genitori che portano i bambini alla scuola Gianni Rodari lamentano il fatto che il nonno vigile dovrebbe transennare una parte della strada per impedire alle auto di transitare e quindi far attraversare i bambini in sicurezza spesso lascia che macchine e motorini attraversino l'area transennata nonostante più volte diverse persone gli abbiano detto di impedirne il passaggio sistemando le transenne in modo tale che le auto possano passare senza problemi la segnalazione è stata fatta anche alla polizia locale ma nessuno sembra essere intervenuto come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti e termina qui la prima parte del nostro telegiornale ma rimanete con noi perché tra qualche istante dopo il break apriamo la pagina sportiva e torniamo in studio con le notizie sportive l'attesa per la partenza dei lavori di ricostruzione del palagrammatico sta diventando sempre più faticosa nonostante gli annunci delle ultime settimane gli interventi a San Liborio non sono ancora cominciati e intanto la Flavioni di Palamano sta pensando di prendere una decisione clamorosa sentiamo il servizio l'attesa sta diventando sempre più sofferenza marzo è iniziato ma ancora non sono cominciati i lavori per la ricostruzione del palagrammatico a San Liborio per la precisione in via Giulio Cerruti l'ultimo avviso del delegato allo sport Matteo Iacomelli indicava per fine febbraio la partenza degli interventi ma Iacomelli ha affermato che servirà ancora qualche giorno per risolvere le ultime questioni una situazione che non piace per nulla alla Flavioni Handball la società maggiormente interessata dalla questione in quanto ormai da sei anni dal 26 febbraio 2018 giorno del crollo del vecchio palagrammatico la società gialloblu non ha una casa dove svolgere al meglio le proprie attività e far fiorire il proprio settore giovanile che sta andando avanti tra mille difficoltà stanno per costruire un mostro senza piano di manutenzione afferma il tecnico Patrizio Pacifico né idea di gestione siamo disposti ad aspettare ancora una settimana poi ci incateneremo perché la nostra pazienza è quasi finita ma i dubbi della Flavioni non riguardano solo il ritardo della partenza dei lavori di cui si parla insistentemente dalla scorsa estate ricordando che sarebbero dovuti cominciare già dopo ferragosto c'è il rischio di avere un secondo stadio del nuoto riprende Coach Pacifico senza parcheggio senza piano di manutenzione senza spesa pubblica un impianto comunale può essere solo privato con la differenza che un impianto comunale non può essere privato toglierci l'impianto di Viabetti dopo 40 anni è stata una bella forzatura politica quindi gli interrogativi non finiscono per il nuovo palagrammatico che potrebbe continuare ad essere immerso nelle polemiche anche quando il campo tornerà a disposizione della città ma intanto prima di pensare a questo c'è un'altra situazione che deve avere la precedenza ovvero i lavori perché i ragazzi che amano la palla a mano ne hanno bisogno e non possono più aspettare onde evitare la chiusura di uno sport che sta dando tante soddisfazioni a Civitavecchia dal 15 al 17 marzo si terrà un evento speciale alla Lega Navale il circolo Civitavecchiese è stato scelto dalla Federvela per ospitare la Coppa Italia EQ Foil e Tecno 293 si tratta di un evento che darà un importante ritorno di immagine per la città previsto l'impiego anche di tanti volontari per seguire i vari velisti tra cui i ragazzi dell'istituto Stendhal ai mondiali master di Doha sono arrivati grandi risultati anche nel settore pallanuoto con molti Civitavecchiesi protagonisti della manifestazione in Qatar bronzo per la squadra M70 della nuotatori Civitavecchiesi con Carlo Righi Franco Bori ed Enrico Pietranera guidati da Simone Feoli che si è aggiudicato quattro medaglie personali in quanto è stato presente sia come giocatore che come allenatore infatti tra l'altro il noto avvocato ha alzato le braccia al cielo per l'oro con la M55 dell'Europa Sporting Roma dopo la vittoria in finale per 8-5 contro la squadra del Kazakistan in squadra anche Marcello Iacopucci che completa una spedizione straordinaria che l'ha visto presente come allenatore della nuotatrice Michela D'Amico sul podio anche Alessio Piaggio che ha conquistato il bronzo con l'Europa nella categoria M65 e c'era anche un po' di civita vecchia nel film Margherita delle stelle è andato in onda martedì sera su Rai 1 con protagonista Cristiana Capotondi dedicato alla storia della celebre astrofisica Margherita Ak che da ragazza aveva praticato con molto successo l'atletica leggera per cui alcune scene hanno riguardato questo sport e sono state chiamate come comparse alcuni ragazzi della Tirreno Atletica che sono stati subito scritturati dopo il provino tra loro Federico Ubaldi mezzofondista e conosciuto anche come allenatore del club bianco celeste Lorenzo Patanè atleta ostacolista e staffettista oltre ad essere allenatore del gruppo ostacoli salto in alto e velocità Isabella Papa atleta mezzofondo di livello nazionale istruttrice gruppo ragazzi under 14 le riprese si sono svolte quasi un anno fa non riesce il colpaccio agli snipers VR3 impegnati sabato pomeriggio nella casa della capolista del girone di serie C i castelli romani sulla pista di Velletri i civita vecchiesi si presentano con una formazione piena di giovani di belle speranze e passano in vantaggio grazie a Ruggero Meconi poi esce la maggior solidità ed esperienza del gruppo dei castelli fino allo scorso anno in serie B e il punteggio finale dirà 7-2 seconda rete civita vecchiese ad opera di Valentini in classifica non cambia molto con i VR3 in Lizza per il secondo posto e per i playoff ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale io vi ringrazio per la gentile attenzione auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata arrivederci